Amici di Rolende, allora sono come vedete in foresta, sta nevicando, fa abbastanza freddo e sono venuto a circa 130 km da malmo perché dietro di me sto riprendendo un Ulula, è stato rapportato da altri fotografi, è un po' di tempo che sta qui, oggi non ho approfittato per venire, sta su un albero praticamente qui di fronte a me, sta su un albero, sono circondato da circa 20 altri fotografi che stanno scattando le foto, sto registrando anche un filmato, sto lì calmo tranquillo, l'avevo già fotografato l'anno scorso, non sembra disturbato dalla presenza umana, ne so tanto curioso, quindi adesso faccio qualche scatto e faccio qualche foto, spettacolare, poi sotto la neve finalmente abbiamo una neve, spettacolare un po' di tempo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.